Quale sarà la commedia che andrà in scena? La commedia che rappresentiamo quest'anno si intitola Pudeva G. Ancapeggi e prosegue nel solco della nostra tradizione spontaneità e divertimento soprattutto e racconta direi di una storia impossibile tra due giovani di estrazione sociale differente però a questo proposito voglio far raccontare la storia e la trama da due dei nostri protagonisti Oh sì, la mia Jacqueline andrà in sposa a questo giovane la mia Jacqueline, il mio bocciuolo, il mio scricciolo Mi tocca sposer per forza Anselmo caro, è così emozionato che non ha nemmeno un filo di voce Mi vuoi sposer, mi vuoi sposer Anselmo, sarà un matrimonio bellissimo Sì, e c'ho la lira, e c'ho Faremo una cerimonia sfarzo di... Eh, pufagapagè La vuoi fare, la vuoi Anselmo, ma cosa dici? Ma insomma, la vua o non la vua, mammi fiola? Eh, eh, che... E che tu sei un gran impostor Perché ecco, io ti do in dono il frutto della mia vita e tu cufei, eh? Agli impostor, arriva questa sastaretta in bracca e vuoi che si da gran capicciona, mandola agli impostor Come ti permetti? Eh, come mi permetti? Io sono una nobile, rivolgite a me con ogni proposto Io direi di riprendere la linea perché forse abbiamo già svelato troppo, abbiamo svelato Ma la storia come finirà? Beh, qui non ci sono alternative, chi vuol vedere se questi due giovani convoleranno a giuste nozze, bisogna che venga il Politeama e non c'è altra possibilità Ricordiamo le date Allora, il GAF presenta Pudeva G Ancapegg il 2, 3, 4 e 9 marzo I botteghini per la prevendita sono già aperti al Politeama